Bravo Buttati per terra che tanto sei inutile al cazzo proprio E ciao a tutti ragazzi sono Adri bentornati sul mio canale seconda missione di GTA 4 The Ballad of Gay Tony Practice Swing Nella scorsa ci siamo fatti tutta l'introduzione E abbiamo accompagnato qualche persona di qua e di là niente di serio Durante i primi spostamenti Oggi andremo a fare sul serio anche perché sapete che le espansioni sono molto corte Sono circa una ventina venticinquina di missioni E quindi non c'è tempo per tutta la dispersione che abbiamo avuto un modo di vedere nel capitolo principale Quindi insomma andremo subito dritti al sodo come abbiamo visto anche con The Lost Endemned Io vi chiedo di lasciare un like al video intanto Di iscrivervi al canale e noi andiamo direttamente a Liberty City Qua vedete la maglietta di The Last of Us E potrebbe essere un segno Non vi dico altro Andiamo Ok bentornati nella location Cheat Del nostro amatissimo Luis Lopez Sì Gonzales Hernández Della Puertas De Mis Cojones Della Cingada E niente Doviamo andare da Tony E ci fosse solo una missione Fantastico C'è ragazzi Eccolo Tony perfetto Arrivo Arrivo C'è qua siamo veramente prossimi al GTA 5 C'è io la butto lì eh Non me ne vogliate a male Ma secondo me è meglio questa grafica qua per PC di GTA 4 Che la grafica qua per la PS3 Dico PS3 perché la PS4 insomma ha fatto grandi progressi grafici A partire dalla prima persona Quindi insomma il lavoro è stato notevole Però qua veramente siamo di fronte a tanta tanta roba E niente E niente ho dovuto intrattenervi durante il viaggio perché Come potete Vedere davanti a voi Non ho preso il taxi questa volta Ho fatto La persona meno pigra ecco Bravo Non urtare quello che sai che non devi urtare C'è un ascolto altissimo Comunque eccolo qui Il nostro gay Tony Pratice swinga signori Oh where the fuck are you been man? Yeah I came as soon as I could I don't pay for as soon as I could Sleep with half the women in Liberty City no doubt What's wrong with you man? You act like an asshole You think I don't know that? You think I like being like this? Then what's wrong T? I fucked up Good and proper So cazzi it's why 20 years I meet everyone Mayors, rivals, drugs, everyone And this time I fucked up I'm the only man in the history of this town With the hottest gay and straight clubs at the same time And I'm about to lose everything What are you talking about T? I don't know if it's that idiot Evan Or the economy Or this fucking cocaine Or the pills Which I am not taking anymore But this time I fucked up Oh no poverino Oh no poverino You are this town You are this town I sold the business to two different people And they each think they owned a lot And they're fucked So I go tell them they gave you the money as a present If they don't like it I take them to the special VIP room at the bottom of the West River It's gonna be very crowded in the VIP room These are not nice people And there's a lot of them And right now you and me have to go play nice with one of them So they don't start sending rent a Goomba into the club Fuck It's gonna be okay man Yeah whatever Meanwhile there's a There's this Blogger This nebbish with internet connection Bad mouth in the whole of town Do you notice guy? The celeberinator? Celeber what? I Che cazzo ha detto? Who's the girl? There wasn't a girl man There's always A girl Lo dice lui No Ok Oh il campo da golf Come no ragazzi Musichina Ok ci siamo Easy peasy Credo che ci sia da giocare a golf adesso se non vado errato Se mi sbaglio non uccidetemi eh Però mi ricordo che c'è una missione in cui si gioca a golf e mi pare che sia proprio questa A sto punto Hey how are you? There they are The spick and the fag Shit You got burrito bread You ain't been eating mexican again have you? Yo rock You invested in the wrong clubs man Maybe split sides is more your vibe Oh but oh boom I'm sure I would have found that funny if I spoke spit Real shame I'll have to ask my maid to translate for me Rock what do you need? I need you to help me get some information out of this union prick who's decided to get an overinflated opinion of himself These fucking guys stuck in the 1970s or something Where is he? He's right down there Oh my god I understand he's going to hit me Oh my god Cruel this mission I'm going to get down there and go talk to him You hit him with some balls when I tell you to huh? You think you can do that for me? Louise Please Yeah I'll give it a try Ovviamente golf che poi ci riporteremo anche a GTA 5 che si può giocare addirittura a comprare campi Ok beh direi abbastanza facile No Che merda So the best is bono Bene Poi i popoli eh Precisissima Precisissima Ok Ok No Non penso che lo farò Precisa anche questa Oh in testa Headshot Boom Noo Noo Ho rovinato tutto Bravo Buttati per terra Che tanto sei inutile al cazzo proprio Della zona dai messina Oh tutti italiani quelli che vanno fatti fuori Cioè o cinese o italiani Vavo Vavo una discriminazione sto gioco eh Vai Sparagli attraverso il vetro Naturalmente si è che questi qui eh Cioè ti ammazzano manco per sbaglio Nooo L'ho perso L'ho ripreso Ok Nooo Deve ricaricare Ok Buono Ok Non si vuole far prendere Perchè Non ho più armi Nooo Raga Non si vuole Certo che se vanno quelli con la macchina si hanno messi bene Questa perdita di energia non ci voleva Corri merda, corri Ok, prima che ci giocano con la macchina passerà un po' Ecco, la più hands degli chic non è male sotto Grande Bene, godo Sicuramente non farò gold medal qui Non farò il 100%, sono sicuro Vai, si esplodiamo Clap your hands Bye Cazzetto, Polino sto qui Ehm, ok Vai, andiamo all'appartamento col cad, si Però è divertentissima sta missione Ma io penso che le missioni di queste espansioni siano proprio tutte divertenti Cioè non ce ne sia una che mi abbia annoiato Da quel che mi ricordo anni, anni, anni fa Sorry Sorry Grandi, vai Grandi, vai Signori Vabbè Ho fatto caccare il cazzo Ok ragazzi, ci dovrebbe essere nel mentre Un'altra missione è un'altra missione per Gaitoni Prima di passare alla missione per sua mamma A potessi rigiocare La rigiocherei subito Che palle Se devo chiudire la porta di un veicolo che non ha la porta Si Ok signori, qui vi lascio Like al video Iscrizione al canale come sempre E ci vediamo per la missione numero 3 Che sarà Chinese Takeout Baccioni Alla prossima